Il nostro Paese ha bisogno di più crescita, più occupazione e più investimenti. Innanzitutto investimenti infrastrutturali per sarare carenze che pesano tanto sugli scambi commerciali e sul turismo e che più in generale fanno perdere al nostro Paese 34 miliardi di euro di PIL all'anno. Quindi sì alla TAV Torino-Lione e sì alle opere necessarie per un sistema di trasporto più economico, più rapido, più sicuro, più sostenibile e insomma sì ad una Italia più accessibile.